Buongiorno a tutti! Oggi voglio discutere di una tendenza, certo sarebbe bello anche avere qualche opinione, però intanto dico la mia. Mi ero già preparato di parlare di questo argomento da un po', però forse non è neanche il momento ideale agli arbori di Clubhouse, il nuovo social network vocale, esclusivamente vocale, però io avevo visto una tendenza in questo periodo perlomeno. Innanzitutto vi ricordo sempre che se volete risparmiare su telefonia energia o migliorare la connessione internet potete contattarmi a infochiocciola diegoramazzina.com Bene, allora oggi voglio dirvi la mia su quella che è la tendenza, almeno vedo i clienti che hanno questo tipo di tendenza, cioè quella di parlare sempre meno al telefono. C'è veramente questa cosa quasi morbosa di comunicazione tramite Whatsapp, soprattutto Whatsapp e Mail. Ma devo dire che addirittura sì, allora dalla chiamata si è andati sempre progressivamente di più alle mail, tant'è che ormai il mio lavoro è praticamente 60% del tempo sulle mail, 10% di chiamate e il resto visite Whatsapp e altro e vedo questa cosa delle chat che veramente sta prendendo piede, c'è questa tendenza sempre maggiore. Per carità, lo capisco, è più comodo, puoi mandare anche vocali volendo così non devi per forza aspettare una chiamata in diretta, in live, ma quando ha tempo ti risponderà. Però il rischio qual è? Il rischio è quello di non vivere più, cioè ci sono delle giornate che mi arrivano, cioè io guardo le notifiche di Whatsapp tra vocali di clienti che hanno bisogno, Whatsapp, richiesta, per carità, richiesta preventivi, ben venga perché è sempre una mana dal cielo, è che veramente a me piacerebbe tornare al rapporto con i clienti, quindi però mi rendo conto che non è possibile, non è possibile, cioè la direzione è quella, come si sta andando sempre di più a fare, come l'avevo già spiegato in un altro video, e si sta tendendo sempre di più a fare l'appuntamento telefonico. E ok, ci sono vantaggi in dubbi, perché vado, non devo fare strada, non vado a perdere tempo, evito traffico, tutto quello che vuoi, ma siamo proprio sicuri che la soluzione sia quella di rintanarsi in casa a lavorare e non avere nessun tipo di contatto al di fuori, perché se è questo il futuro, cioè sinceramente io non posso farci niente, devo solo prendere il trend e andare, però non mi fa assolutamente piacere, insomma. Io comunque, visto che l'appuntamento settimanale l'avevo messo in programma, vedo questa tendenza. Certo, dall'altra parte adesso con Clubhouse, che ci sono le stanze, uno può invitare gente per discutere degli argomenti, sicuramente interessante. Tanto io comunque i social non li uso, nel senso che li utilizzo per i clienti, per lavoro, perché alla fine mando qualcosa su Instagram, perché al sabato mi piace quando posso giustamente andare in mezzo alla rottura, i boschi, il mare, montagna, collina, camminate, bicicletta, ok, va benissimo, però io allora faccio il fotogramma, le foto che magari mi piacciono, però sì, anche lì, meglio di mettersi lì a fare gli haters, a mandare chissà cosa su Facebook o su Twitter, però non ne vedo sta grandissima necessità, però come trend, diciamo, non è che sia un grossissimo indovinatore. Vabbè, insomma, io volevo analizzare un po' la tendenza, dove ci porterà questo futuro, perché tutti i lavori sono incerti, secondo me anche il mio lavoro piano piano andrà un po' a esaurirsi, infatti, per carità, io sto studiando tante altre cose nel tempo libero per tenermi pronto, insomma, per tenermi quantomeno aggiornato, siamo in un mondo veramente in continua evoluzione, consiglio ovviamente di farlo a tutti voi, ad ogni modo, ecco, io volevo darvi solamente questo mio parere. Per il momento è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!